Ma che capelli ho oggi? Capelli lunghi, vanno a tutte le parti dove vogliono loro No ragazzi tranquilli, non era un vlog sui miei capelli perché sennò sarei arrivato proprio alla frutta, frutta, frutta era soltanto per poter scaldarci un pochino No, voglio parlarvi del progetto a cui sto lavorando ed è anche per quello che domenica non è uscito nessun video sul canale perché sono andato in quel giorno a filmare per poter fare una cosa molto più di respiro cioè che copre un lasso di tempo che è indefinito cioè è praticamente il rifacimento della pista degli aeromodelli a cui sono iscritto quindi l'avete vista all'inizio, voglio farvi vedere i lavori un pochino e poi la fine come sarà quindi è un lavoro che mi prende un pochino di tempo domenica ad esempio sono stato tutto il pomeriggio a filmare, filmare, filmare e sono arrivato a casa senza materiale da poter portare sul canale però farò ammenda farò ammenda, farò ammenda questa domenica e farò un bel video anche per voi sebbene dovete fare due a questo punto per voi e per me cioè sempre per voi ma per il famoso progetto di cui parlavo quindi ragazzi stay tuned rimanete fedeli iscrivetevi al canale guardate altri video qui in descrizione o lì sotto perché non so mai se è qui, lì o là quindi vedete voi dov'è e ci vediamo alla prossima ciao a tutti